Lucera domina, Mola e Bari non demordono, Molfetta fa sul serio 4 i successi esterni della quarta giornata di ritorno. A quello di Molfetta si aggiungono le vittorie delle prime tre della classe su tutte. Lucera che passa a Trani senza problemi per 98 a 50. 4 gli uomini in doppia cifra per la Sveva e Undie però a guadagnarsi il premio di miglior marcatore dell'incontro con 23 punti. La battistrada sale così a 28 punti, due punti importanti anche per Mola che passa a Mesagne con qualche patima di troppo. Alla sirena 62 a 68 il risultato. Alla squadra di Romano non bastano i 23 punti di Ranitovic per spuntarla perché gli ospiti ne infilano 30 tra Barnabà e Dilascio conquistando l'ottava affermazione di fila. Prova di forza invece per l'Adria Bari al cospetto della nuova Matteotti. Corato gli uomini di coach Cazzorla si impongono per 86 a 63. 21 punti a testa per Giovara della nuova Matteotti e Rodriguez dell'Adria. Bari intanto sale al terzo posto dopo il KO di Monteroni contro Molfetta che grazie all'80 a 77 del Palapoli infila la quinta vittoria consecutiva e aggancia proprio i Salentini al quarto posto. Bianco-blu trascinati da Brown e Formica rispettivamente 26 e 25 punti mentre sull'altro fronte è Gigliotti a prendersi la scena con 25 punti. Tutto facile per la Dinamo Brindisi che regola la Valentino Castellaneta per 81 a 55 mettendo il turbo dopo l'intervallo lungo con 20 punti di Musa e 15 di Stonkus. L'altro successo casalingo di giornata si registra a Vieste ed è il primo sul parquet amico per la Sunshine che batte Altamura per 69 a 65 e la stacca in classifica. Trascinati da Petronella autore di 23 punti i Murgiani provano a ribaltare l'inerzia nel terzo periodo ma la squadra di Rubino rimette la testa avanti e adesso ne ha tre dietro. Nel prossimo turno occhi puntati sullo scontro al vertice luce da Mola prima contro seconda.